Eccoli qua! Benvenuti a Valona! Ciao Puppa, ciao a tutti! Ciao Casaro, benvenuti, come stai? Molto bene, grazie. E tu? Allora, bene, per voi la domanda classica, è classica perché lo dobbiamo chiedere a tutti, tu eri già stata in Albania? È la prima volta. La prima volta? Sì. E allora, un'impressione? È meravigliosa e somiglia tantissimo alla mia terra perché io sono pugliesi, quindi la casa mia è proprio di fronte a voi. Come si chiama la tua mamma? Io sono di Bari. Di Bari, come si chiama la tua mamma? Tu papà, come si chiama? Antonella. Antonella? Antonella! Ci sentono? Secondo me rispondono se aspettiamo un secondo. È vero, ma noi vogliamo solo ascoltare le canzoni meravigliose, storiche dei Mattia Bazzar. Grazie. Battiamo le mani insieme, dai! Sono tu, nel calore del mattino che rilasci il corpo al sole. Grazie. 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 Grazie.